Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui con questo video dove andremo a seminare le cipolle Siamo a più o meno la prima settimana di novembre e quindi seminiamo le cipolle Voi mi direte perché le semino adesso? Allora, molto facile da dirsi perché le semino adesso perché comunque andiamo verso l'inverno, verso il periodo freddo Quindi novembre, dicembre, gennaio e io spero che per febbraio siano pronte a mettere in campo Quindi le do un mese abbondante qui in questa vaschettina qui di polistirolo, questo plateau di polistirolo seminato a spaglio Dopo un mesetto, quindi intorno, io vedrei intorno ai primi di dicembre di andare comunque a ripichettarle su delle vaschettine preforate che volete voi Quindi di misure indifferente tipo questa, per farvi vedere un esempio, tipo questa qui che ha il foretto un po' grande E quindi lasciarle lì due mesi per poi andarle a trapiantare Ecco, quindi ci prendiamo avanti, semineremo solo le cipolle rosse, quindi le cipolle da consumo fresco La cipolla dorata, la cipolla ramata, la cipolla ovviamente invernale, la semineremo a gennaio Per averla con l'anno nuovo così ci dura un anno intero Perché se noi seminiamo le cipolle diciamo con l'anno vecchio tendono ad andare a fare l'infiorescenza Quindi andare a seme prima rispetto a cipolle che seminiamo nello stesso anno Se noi seminiamo le cipolle a gennaio, le trapiantiamo, che ne so, ad aprile e poi le raccogliamo, le conserviamo Ci durano più o meno circa fino a gennaio dell'anno prossimo Dovrebbero non andare a seme più o meno a gennaio, febbraio dell'anno prossimo non dovrebbero andare a seme Quindi dovremmo essere a posto, quindi durano un anno Ecco, detto questa premessa molto velocemente Sapete che io le semino, ovviamente la luna è giusta Siamo a novembre Possiamo seminarle anche a dicembre senza problemi Però io dico seminiamole un po' prima così Terriccio che ho usato io Terriccio che ho usato io, sempre il solito terriccio che io utilizzo da semina Quindi più o meno voi lo conoscete il mio terriccio da semina Quello è un terriccio universale molto soffice Con un'aggiunta di compost oppure un'aggiunta di puro letame Quindi stallattico di letame sfarinato e installattico sfarinato Ecco, io utilizzo sempre questa tecnica 50-50, sì 50-50 in che senso? Per farvi capire facciamo sempre le cose pratiche Perché sennò qui, tanto che non siamo professori 50-50 come? Una palettata di terriccio, una palettata di stallattico sfarinato E voi avete il vostro coso Se voi non avete la paletta, non importa Prendete un vaso di tutti i fiori Vi fate la misura più o meno Su questa fase qui va bene così Sulla fase in cui andiamo a trapiantare sulle vaschette Il consiglio mio è mettere una paletta in più di stallattico Perché così hanno più nutrimento Semi delle cipolle, eccoli qua Ovviamente acquistati in busta Perché non ho ancora iniziato a farmeli io i semi Quindi cerco di acquistarli Ovviamente acquisto semente Diciamo non OGM, non Ibrida, eccetera, eccetera Quindi semente riproducibile Oppure aziende che hanno una certa esperienza nella semente In questo caso io non vi dovrei fare i nomi Infatti non ve li farò Ma ve li faccio oppure no Perché comunque ci sono ditte sementiere Diciamo di ogni genere E tra virgolette comunque le ditte sementiere Sono tutte più o meno simili Quindi praticamente fanno tutte più o meno le stesse sementi Cambiano un pochettino Ovviamente si vantano di usare qualità migliori Ma siamo là Qui stiamo seminando una cipolla Qui stiamo seminando ovviamente Qui stiamo seminando ovviamente Lo scritto qua sul plateau Una tropea tonda Quindi cipolla rossa Rossa di tropea tonda Che in questo caso è della marca Franchi sementi Ve l'ho detta Franchi sementi, sgravatti, ingegnoli Insomma ce ne sono tantissime marche Anche marche un po' poco conosciute Quindi piccole E ce ne sono tantissime Quindi hanno ovviamente Ci spostiamo di qua Col plateau Che ovviamente marche Ditte sementiere anche un po' più piccole Che comunque Bustile ha pagato 80-90 centesimi Benissimo Non sto dicendo Non sto dicendo sicuramente Che non va bene Adesso la prossima che seminiamo È la lunga di Firenze Allora perché io semino queste varietà di cipolle logicamente Perché sono quelle che avevo dell'anno scorso Ma soprattutto sono quelle che ho Ovviamente utilizzato Perché le cipolle Avete visto come sono venute fuori bene Ho messo ovviamente delle immagini Delle cipolle Vi ho fatto vedere il video delle cipolle Che ovviamente era la cosa delle cipolle Che è così Però vi ho fatto vedere il risultato Ecco quindi Devo dire la verità Che è eccezionale il discorso Di avere degli ottimi risultati Quindi di continuare A riproporsi con la Con la semente E con le varietà che ci hanno dato Degli ottimi risultati Ecco poi ovviamente ci hanno Delle varietà in cui magari la cipolla È proprio di suo Più piccolina E più brutta Qualcuno mi ha chiesto anche Qualcuno mi ha chiesto anche Come mai A me mi sono venute così grosse Le cipolle E a loro magari rimangono Un po' più piccoline E non vengono bene Allora io Personalmente Io personalmente Non saprei rispondere a questa cosa Perché Anch'io ho avuto brutte esperienze Comprando cipolle Ovviamente dal consorzio E poi Da quell'anno Lì ho detto Ma io non riesco mai a fare Ho detto cavoli Ma io non riesco mai a fare Cipolle Veramente belle E gli altri fanno cipolle belle Poi ho detto Ma sì dai Quest'anno C'è il tempo C'è tutto Ho la serra qui Che ovviamente Vedete È una serra Da due metri Scarsi Perché è un po' più stretta Per tre metri Ovviamente cinese Per dire la verità Quindi è una serra Praticamente del cavolo Quindi una serra Molto 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 Una serra Molto 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 Diciamo quelle da Quelle da brico Scarse Proprio serre Che secondo me Non bisognerebbero neanche comprare Io ho fatto l'errore Ho fatto l'errore Di comprarla ovviamente E purtroppo Comunque di fare L'acquisto Diciamo E c'è Si cerca sempre di usare Quello che si è acquistato E non di andare a prendere La serra E buttarla via Anche se Anche se comunque Secondo me Sarebbe stata la cosa migliore Buttare via la serra Buttare via la serra E andare a A comprarne una meglio Però dato che Dato che per ora Non ho il tempo E soprattutto Non ho la L'economica I soldi Ecco per farlo Mi sono recuperato questa Se qui adesso Seminiamo la tropea lunga Abbiamo seminato La tropea tonda La lunga di Firenze E poi adesso Andiamo a seminare Una Poi andiamo a seminare Ovviamente Una Tropea lunga La tropea lunga È questa qui Ovviamente Sono tutte Cipolle di tropea Poi ce ne sarebbero Tantissime tipologie Ci sarebbero tantissime tipologie Di cipolle Che secondo me Avrebbe senso Seminare Avrebbe senso Di fare Però Sai Aviamo un orto Diciamo Aviamo un orto Di Di queste Di dimensioni Diciamo ridotte Noi non abbiamo Campagne Grandi O come aziende agricole Che possono Permettersi di produrre Diverse varietà Ecco E quindi Dobbiamo cercare Di Dobbiamo cercare Di ottimizzare Ovviamente Gli spazi Per poter andare A seminare Diciamo Quello che Più ci interessa Ecco E tante volte Tante volte Si semina dietro i gusti nostri Si semina così Ecco Quindi È là Quello che stavo Dicendo prima È che io non so Che anch'io L'ho comprato Il consorcio Di cipolle Stavo dicendo prima Da piantare E non mi è andato Tanto bene Le cipolle Poi ho abbandonato Il discorso Di cipolle Perché 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 Ecco Non andavano bene Poi cosa ho fatto Io Ho questa starretta Qui come avete detto Del cavolo cinese Del baricco E tutto quello Che volete dire Che non ho buttato Ho recuperato Diciamo Un pochettino Sistemandola Un pochettino Con scocce anche Eccetera eccetera Un po' di pali di legno Ecco L'ho sistemata E quindi ho detto Perché non provo A seminare le cipolle Dato che lo spazio ce l'ho Il tempo ce l'ho Ho provato a seminare le cipolle E le cipolle Le ho seminate Piantine piccole Un po' Non tanto belle Ho detto Le metto in orto Vediamo cosa fanno E a dirvi la verità Tra Tra il dire e il fare Ci sta di mezzo Anche ovviamente La fortuna E per me Sono venute delle ottime cipolle Come le ho trattate Le cipolle in campo Niente Non ho fatto nient'altro Giusto che Aver Solamente averli tolto l'erba Averli Averli tolto l'erba Aver concimato Tanto Perché aver messo Tanto letame Tanto stallatico Aver messo Tanto sostanza organica Basta Non ho fatto nient'altro Ha piovuto Ha fatto la pioggia E tutto Si è arrangiato il tempo da solo Meglio di così Non si poteva andare Quindi io Non ho fatto niente Qualcuno mi dice Ma a me vengono piccole le cipolle Ci possono essere diversi Problematiche Secondo me La cosa più maggiore È che hai un terreno Troppo duro E povero Di sostanza organica Quindi Hai un terreno compatto Aggiungi un po' di sabbia E aggiungi sostanza organica Così il terreno Si scioglie E mai la cipolla Si può ingrossare Ecco però Insomma Sono sempre cose che Si dicono E dopo magari Non si conosce bene Le problematiche Di ogni terreno Ecco per dire Perché Comunque si si può dire Problematiche Perché comunque Sono delle problematiche Ecco Dei terreni Ecco Non perché Io ho il terreno migliore Perché Il terreno migliore Bisogna Il terreno migliore Si ha quando Si continua A A farlo diventare migliore Anno per anno Ecco adesso Dicendo questo Farlo diventare migliore In che senso Farli sovesci Fare Ovviamente Delle concimazioni Molto Ammirate Quindi magari Non solamente Con un tipo di concime Quindi letame E basta Ma andare anche Magari con uno Stallatico pellettato Andare magari Anche con altre Tipologie di concime Che magari Possono dare Quello che magari Quell'altro concime Non adatto Ecco per dire Perché Qualcuno mi dice Io concimo solo con letame Punta e basta Si Sono d'accordo anch'io Però Se avessimo letame Se avessimo compost Eccetera eccetera Sarebbe meglio Se invece abbiamo solo letame Andiamo a prendere un po' di Stallatico pellettato Che comunque È già bilanciato di su E quindi Praticamente Ci dà Ci dà ovviamente Quella parte Che magari sul letame Potrebbe anche Un pochettino mancare Perché non sappiamo Che i letami Come sono fatti Non li abbiamo fatti Analizzare Quindi Dato che non sappiamo Queste cose qui È meglio utilizzare È meglio utilizzare Ovviamente Del Come si dice Utilizzare Ovviamente anche A volte Dei concimi Che sono naturali Perché lo stallatico pellettato È naturale Però I concimi Che magari hanno dentro Ovviamente Delle Posso dire Come si può dire Che hanno dentro comunque Degli elementi Ben bilanciati Quindi Ci danno ovviamente Degli ottimi risultati Ecco Io adesso sto facendo così Molto velocemente Ecco vedete Tornando proprio Tornando proprio a Chiudere il seme Con un velo Settilissimo Il terriccio Era già stato Ovviamente Ben inumidito Questo miscuglio Tra terriccio normale E stratico sfarinato Era stato Ben inumidito E poi Abbiamo seminato sopra Adesso ci facciamo La nostra Spolverata di terriccio Che ci permette Ovviamente Di coprire il seme E di tenerlo Bene umido Con queste temperature Ancora così Abbastanza caldine Diciamo comunque Dovrebbero nascere In poco tempo Dovrebbero sviluppare In poco tempo Ecco Stiamo dietro Con le bagnature Finchè non nasce In un bagno Punto e basta Ecco niente Spero di avervi fatto Vedere questo video Non so quanto lungo sia Boh E di avervi fatto Vedere questo video E di avervi dato Di consigli Seminate ora Le cipole E niente Da poi le fiate È tutto Boh